www.mesmerism.info 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 Mira Ecco o Joan Croce del terceiro De quarto ora Joan Croce, quarto Repesca, repesca Joan Croce Pois se vai a 12.5 Ese è a 2.000 Ahí vai Joan Croce Joan Croce, quarto Ahí está Joan Croce 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 E' attacca! E' attacca! E' attacca per l'instant l'attention, tu vois, sull'occurre più che il tiro a un po' di passaggio. E' attacca, attacca a passato anche, con la ronda, con la ronda, con un tour! E' attacca anche, sull'occurre, con la ronda, sull'occurre, 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 quindi all'occurre, si voletevano tutti, un po' di ronda o a ronda, un po' di ronda è un po' di ronda, Grazie! Mettiamo il posto in un paese! E' attacca! Anche. A una volta, Sì. Passò, passò, passò Joan Croce